eh si è per fuoco quello che vuoi sentire? ma perchè loro si mettono qua, quante progettate? però si ritenga questo indietro come fai? ohhh ah adesso sta avventata è normale si sta avventata è normale eh guarda mi sento inizio si disse? ha fatto così un bel falco ma se non... non ho... è finito, è colorata bene ehi, mi sono andata in casa? no allora, come era il mare? bello giorgia ma come hai orgoglia? ma come hai orgoglia? no no